Risultato Mario? Io dico Udinese Torino 1 1, quindi vittoria a Francesco? No, io ho visto il Torino, secondo me l'unica squadra veramente penalizzata dagli arbitri nel corso dell'intera stagione perché mi mancano almeno 4-5 punti quindi io punto a un risultato sorpresa una vittoria del Torino Ah, una vittoria del Torino Napoli-Inter Eh, che ne parliamo a fare? Napoli? No, sai ti do un'altra over Over, questa bella questa proprio Ragazzi papà, tutti i campi per il cazzo scopresse No, comunque chiaramente Raffaele, no Se il Napoli è quello lì Non me lo darei il risultato, non me lo darei mai Non me lo darei mai Ovviamente voglio che vinca il Napoli Eh va bene Raffaele Questo è il minimo Non hai detto niente di nuovo E tu mi fai parlare del Napoli sui pronostici, sai bene E lo so che tu non pensavo che... È un territorio minato Over, tu che dici invece? A uno stesso Lo faccio il pronostico e dico che vince il Napoli E vince il Napoli Per forza, perché secondo me ti devi alzare e andare via Infatti non potevo dire Guardiamo a Gigi che cosa ne penso Gigi che... Gigi che... Gigi che... Gigi 3 a 1 Napoli 3 a 1 Napoli Che bellissima Grazie Grazie